Nella provincia di Prato, in un anno, l'assicurazione per l'auto è cresciuta del 20%, arrivando in media a 769 euro, contro i 640 del 2022. Rispetto alle province toscane, quella pretese si trova al sesto posto se si considera la base annua, ma al primo se il raffronto viene fatto sul mese precedente, cioè a marzo 2023. A dirlo l'osservatorio Facile.it che ha evidenziato anche che a Vaiano si è registrato l'incremento maggiore, 33%, seguito da Carmignano, Prato e Montemurlo, mentre per Venno e Poggio a Caiano le tariffe sono diminuite. Le auto assicurate nella provincia hanno un'anzianità media di 9,6 anni, dato il leggero diminuzione rispetto allo scorso anno. L'aumento delle tariffe, mediamente rilevato negli ultimi 12 mesi, è stato registrato, seppur in misura differente, in tutte le province toscane. A segnare l'incremento più consistente è Lucca. In questo contesto, con Fartigianato Prato-Pistoia insieme a CNA, lancia la campagna Porta il CID in carrozzeria. Innanzitutto è la libertà di scegliere il proprio riparatore di fiducia, quindi poter mantenere un servizio con un fornitore di fiducia, quindi sapere il livello di garanzia e di qualità del lavoro che verrà effettuato sulla propria vettura incidentata.